Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, siamo sul canale di Papa e andiamo avanti nell'ombra di Mordor avevamo appena distrutto quell'enorme statua in nome di Sauron e adesso abbiamo sbloccato una missione particolare perchè c'ha un occhio ragazzi in terza persona, no in prima persona scusate e caduto i capitani hanno risposto alla loro sfida, andiamo fermo fratello vuole che senza morte ma non era qui uno dei suoi serbi l'hanno mandato a darci la caccia radunerò i miei uomini non avete speranza contro i servi di Sauron fai fuggire la tua gente da Mordor stanotte o all'alba sarete morti è premuroso però c'è c'è una galleria che va al cancello nero Erin è ora addio amico mio grande ci ha dato una mano importante fino alla fine ecco questo è cattivo i comandanti locali non hanno fatto nulla per impedire il sacrilegio sono caduto in battaglia mio signore tutti tranne me il comandante Ratbag per fortuna sei ancora vivo sembra sarcastico ora portami la testa di questo senza morte ma no ma l'ha ucciso vieni a prendertela figa zio con che cattiveria il ramingo del cancello nero dov'era il tuo coraggio quando abbiamo massacrato la tua famiglia dov'era uccidetelo non hai capito zio uno due sei buono pure tu anche te ho sbagliato adesso mi sembra forte però eh oh 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 ma sei pazzo? guardate e imparate l'arte della morte torna alla terra senza morte ora tocca a me farti soffrire e m***a ma hai già ucciso la famiglia oh 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 cosa cattiva eh dai dammi tutto quello che hai che poi devono andarcene eh la madonna ma questo è cattivo allora ho le frecce però io tolgo in vita eh zio zio devi stare buono ecco così manda via bene però sarà invulnerabile a tutto figa zio tutto tutto mi toglie devi stare buono fratello cioè non è che tutto così si risolve eh oh oh che cazzo ha fatto? ah richiama pure gli amichetti ma bastardo ehi no 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 levati 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 scappa 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 veloce proprio io me lo prenderei male se fosse un orto cazzo uno due tre quattro e cazzo non è qui che cazzo è la 6x ah per scappare da lui vuole venire uno alla volta almeno di succo un po' ehi 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 state buono ehi 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 non costa cattiveria dimostrerò che cos'è il vero dolore al lavoro cani al lavoro dimostrerò che cos'è il vero dolore no un'accia a chi esiste me lo sentivo ma che cazzo fa no zio io ti stavo schivando ma proprio di brutto ancora mi chiami gli amichetti andiamo a prenderne uno in singolo prima cadevano gli altri è già arrivato velo maledetto come sto scendo all'area devo pure stare in un'area precisa e che cattivi glielo dirci io dai dai che ce la fai ce la fai ce la fa zio cattivo proprio tra l'altro ho messo una runa e che mi dà la possibilità di prendere quattro frecce in più che cos'è il vero sì stai buono va ancora eh ma zio ma tipo basta ecco è ora che tu muoia ehi 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 ecco la salvia me lo sento maledetto bastardo che vai ancora si 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 prova a spararmi con quel coso sei morto prima che lo farai sei mortissimo ah ecco come la tua vendetta non sono dolci le tenebre adesso ti dai dici in questo caso sei buono madonna madonna sta musichetta poi gli da la giusta intonazione sei stato impaziente avremmo potuto scoprire molte cose ha massacrato la mia famiglia di fronte ai miei occhi tu cosa avresti fatto parli con i vivi o solo con i morti chi è sta qua chi sei comunque il mio braccio destro quello lì anima non mi piace molto è proprio un po' cattivo sotto sotto sapevo di trovarti qui l'ha predetto mia madre ma pure un'indovina beh l'Italiel del mare di Nurnen avresti dovuta rimanere dove eri qui non c'è altro che morte marwen regina della riva desidera parlare con te ha visto le tue sventure in sogno una regina con le visioni visioni del ritorno del grande Celebrimbor desidera fargli un'offerta come cazzo che genere di offerta non so altro devo fare il proposto il ritorno a Nurnen sarà lungo e pericoloso sono accampata qui vicino accompagnarti sarà un onore si ma non far la figlietta cioè bene missione completata successo fatto tutto bene ragazzi abbiamo sconfitto il martello di Sauron ma restano ancora il capitano nero e la torre beh ragazzi direi con questo perché con questo possiamo salutarci vediamo solo mannaggia quante robe ho sbloccato questo che cos'è preparatevi ad entrati con l'etral dietro le linee nemiche del cuore di Mordor va bene di Mordor va bene va bene allora faremo questa mannaggia ragazzi quante robe che dovrò fare è davvero tanto quello che c'è da fare missioni secondarie non vabbè iniziamo a spostarci qua va bene ragazzi spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale se avete qualche domanda scrivetela sotto nei commenti ci vediamo presto ragazzi ciao a tutti